Sono state richieste ulteriori perizie per verificare l'eventuale riapertura dell'istituto Manzoni di Pagani ad annunciarlo ai commissari prefettizi. Lo storico edificio che sorge alle spalle della villa comunale è stato chiuso nel 2016 quando l'amministrazione comunale in seguito a delle verifiche effettuate scoprì problemi tecnico strutturali. Determinanti saranno ora anche dei contributi da intercettare ed utilizzare per l'istituto. Il mio obiettivo primario, ho fatto mio un obiettivo che è della città, la riapertura della Manzoni di cui si è tanto parlato. Ora ci stiamo muovendo nel chiedere delle ulteriori perizie e vanno a verificare se è possibile e in che termine è possibile provvedere, arrivare a una riapertura di un edificio. Sì, è una grande conquista. Io dico che Pagani nel momento in cui l'edificio verrà riaperto grazie anche dei contributi. Ci sono due filoni di finanziamento che vorrebbero arrivare. Nel momento in cui arriveranno i contributi e saranno supportati anche da nuove perizie che daranno la misura e l'entità dei problemi e a realmente i obiettivi. Possiamo partire e riduire alla popolazione, al comune, un edificio anche di valore storico, anche la collocazione all'interno della villa comunale. E poi è un edificio che risolverebbe i problemi di tanti dirigenti omanici. Grazie a tutti.